Bussellato si fa sempre più dura, però è vietato mollare, restano 15 partite, chiaramente avrete fatto questo tipo di discorso, anche se il calendario non è rassicurante, bisogna insomma guardare una partita alla volta, forse questo è il segreto in un momento così difficile. Sì, la situazione è dura, ci sono ancora 15 partite fortunatamente, sono d'accordo con te, bisogna prenderne una a una e cercare di portare a casa più risultati possibili fin da subito, adesso è arrivato il mister nuovo quindi cominceremo a lavorare con lui, cercheremo di fare subito le cose che ci chiede perché è importante seguirlo fin da subito. Mister Nuovo che tu conosci, l'hai avuto a Foggia stagione 2018-2019, c'era anche Galano in quella squadra che mise in difficoltà, mi ricordo il Pescara era inizio campionato, 1-0 per i Biancazzurri Pilon, decise Gravion, ma davvero una bella organizzazione di gioco. Che tipo di allenatore è? Ma è un grande lavoratore, un allenatore molto esigente, dà un'organizzazione tattica specifica, ognuno quando va in campo sa esattamente quello che deve fare, sia io che Cristian ci siamo trovati bene con lui, è stata una situazione difficile a Foggia però grazie a lui siamo riusciti a fare più di qualche partita imponendo il nostro gioco. Ovviamente per far quello che chiede lui ci vuole tempo però dobbiamo cercare di rubare il tempo in questo momento e cercare di mettere in pratica subito le sue idee. Tra l'altro quel Foggia mi ricordo aveva un fardello pesantissimo di 8 punti di penalizzazione, poi fu destituito dall'incarico, tornò alla guida del Foggia dopo Padalino, insomma fece quasi un miracolo perché mi pare sul campo 43 punti. Sul campo 43 punti sì, in realtà eravamo tipo a 3 punti dei play-off con i punti di penalizzazione, se avessimo avuto indietro i punti di penalizzazione. Purtroppo la stagione non era delle migliori anche perché l'ambiente è molto duro da quelle parti, lui ripeto ci ha dato una grossa mano anche perché nel giro mi pare di 5 giornate abbiamo già annullato la penalizzazione, abbiamo vinto 3 partite subito e stavamo facendo molto bene, poi abbiamo avuto un calo fisico purtroppo che ci ha fatto scendere un attimino la classifica e ne ha pagato lui le conseguenze, poi è ritornato e quando è ritornato lui abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un bel finale di stagione. Quel Foggia giocava col 3-5-2. Diciamo che a Foggia la squadra era costruita per giocare 3-5-2, avevamo gli interpreti perfetti per quel modulo e lui insomma giocava a quel modulo penso perché gli veniva in posto dalla rosa. Con una rosa come la nostra penso possa giocare più moduli senza avere problemi perché siamo veramente tanti e può decidere lui quale modulo schierarlo. È chiaro che adesso abbiamo parlato dall'allenatore, però non è che possa fare miracoli, dipende soprattutto da voi. Assolutamente sì, io penso che le colpe di Breda siano quasi zero, alla fin fine siamo noi giocatori che andiamo a campo e per come la vedo io è giusto assumersi le proprie responsabilità quando facciamo schifo, è giusto dirlo. È inutile puntare il dito sull'allenatore, sappiamo che nel calcio è il primo a pagare, però tante volte un esame di coscienza fa bene. Sembra talvolta che questa squadra non sia un gruppo, diciamo la sensazione dall'esterno, che poi è una cosa strana perché fino al 4 gennaio sembrava che ci fosse questo gruppo, che ci fosse un'anima. È un grosso punto interrogativo questo, no? Paradossalmente io ti posso dire che in dieci anni che gioco questo è il gruppo di più bravi ragazzi che abbia trovato, ma purtroppo nel calcio i bravi ragazzi probabilmente servono a poco, alla fin fine conta solo ed esclusivamente il campo, quindi si può essere bravi finché si vuole, ma alla fin fine conta solo ed esclusivamente la prestazione. Dobbiamo cercare di rimetterci in carreggiata il più presto possibile, se no veramente la situazione è irrecuperabile. Il calendario però dice che adesso affrontate il Frosinone, Lecce, Cittadella, Spalla e Pordenone. Sono cinque partite prima della sfida, diciamo così, salvezza, speriamo che sia così, con Lascoli. Si comincia da Frosinone, una squadra in crisi, che è stata in crisi, ha ritrovato la vittoria dopo quasi due mesi. Io sinceramente sono contento che vengano subito queste squadre qua a giocare perché con l'Empoli abbiamo fatto una partita discreta, siamo riusciti a strappare un punto, è la squadra più forte del campionato secondo me, quindi probabilmente abbiamo bisogno anche di confrontarci con questo tipo di squadre. Io sono contento di trovare queste cinque partite difficilissime, ma sono consapevole che se riusciamo a ritrovarci, a ritrovare fiducia, a seguire l'idea che porterà Grassadonia, possiamo farcela.